SIGLA 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 Ciao signorina. Mimmo, tra poco siamo di nuovo in rosso. Lo so, sì. Quando potresti? Mercoledì avrai una piscina. Mercoledì mi hanno incastrato in ufficio. Sarò a casa tardi. Sono cinquanta euro in quattro ore. Dimmi chi è. Dimmi chi è! Non è nessuna casa! Ormai non mi hai chiamata? Stavi lavorando. Vorrei averti incontrata prima. Adesso è troppo tardi. Papà! Volevi conoscere mia moglie o ti diverti a carmi i problemi? Dillo. Non sei pazienza! Mettetela! Tu dovessi vedere bianca con un altro. Me lo dici subito. Ci siamo solo fatti del gran bene scopato. Fermi! Si può sapere cos'hai? Domani torniamo. Io vado a casa mia, tu da tua moglie. Perché tu sei pronta a lasciare il tuo compagno andarti? Hai già deciso tutto. Pensavo che saremmo stati in due a decidere. No. 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 No.